Sono chiaramente emozionato, la voce è oltre che è rotta dell'emozione e anche del mal di gula. Quindi chiedo scusa, mi fa grandissimo piacere e d'onore di questo premio inaspettato, che peraltro premia la sottozona Aquileia, giusto? E' ben rappresenta con i mosaici, meglio di così non poteva essere rappresentata, è veramente bellissima. E' un premio che peraltro rappresenta anche il territorio, perché noi siamo a Clauiano, uno dei cento borghi più belli d'Italia, dove vi invitiamo tutti quanti a venire a bere quel vino, perché ce n'abbiamo ancora qualche cartone, che si è mantenuto benissimo. Ma in un giorno di ringraziamenti, oltre a ringraziare il sindaco, tutte le autorità e la giuria, credo che sia doveroso ringraziare Giorgio Gregorato, con il quale abbiamo fatto il segno. Grazie!